Ehi, per te è meglio se chiude gli occhi? Sta calmo. Cerca di concentrarti. Devi evitare, a tutti i costi, anche solo di spiorare Kitagawa. Dojo, ti sei fatto male. Mi stai facendo preoccupare. Non ti preoccupare. Non mi sono fatto niente. Vorrei misurare l'ampiezza delle spalle. Posso chiederti di girarti ora. Non serve a niente. Non riesco a rimanere composto quando la guardo. Ma sono sicuro che se si girasse io... Ah, il suo latopino non aiuta! Oh, ti danno fastidio i capelli. Va meglio così? Scusami, ti posso fare una domanda? Te ne stai lì, ferma, solo con il costume da bagno. Insomma, non ti senti un po' in imbarazzo? Oh, perché dovrei? Proprio no. Insomma, se voglio diventare Shizuku, dobbiamo seguire la rivista alla lettera. Ehi, aspetta, ma che cos'era quel rumore? Cosa stai facendo? Ha ragione. È come se ce l'ha. È maleducato da parte mia. Fare certi pensieri davanti all'entusiasmo di Kitagawa. Non c'è niente che non va! Non ti devi preoccupare! Sì, che mi preoccupo, invece! Lei ha bisogno di aiuto. Conta su di me. Cuore e anima. Devo metterceli entrambi. Darò tutto me stesso. Ecco così. Devo solo concentrarmi sul lavoro che sto facendo. Direi che ci siamo quasi! Sì. Oh, giusto! Gojo, ti spiacerebbe prendermi anche le misure del piede? Del piede, dici? Guarda però che le scarpe non le so fare. Pensavo di fartene comprare un paio e modificarle. È che io ho un problema. Quando compro un paio di scarpe nuove, dopo un po' mi fanno male lo stesso. Anche se il numero è giusto. Forse non dipende dalla lunghezza, ma da quanto è largo il piede. Quaggiù? Sì. Prendiamo nota anche della larghezza. Vado a prenderti una sedia. Dammi soltanto un secondo, ok? No, va bene questo. Proprio dell'altezza giusta! Non puoi sederti lì! Perché no? No, 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 no. Non va proprio bene perché... Perché è sporco! Sì, è sporco! Ma figurati, per me va benissimo. Yei! Smettila! Ti prego, scendi da lì. Te lo chiedo per favore. Scendi subito da lì. Ti dico che è sporco, davvero! Quante storie! Ascoltami, scendi da lì, ti prego! Dai, non c'è nessun problema. Continuiamo con le misure. No! Dai, insomma, senti, adesso, io adesso ti porto immediatamente una sedia. Fai come ti chiedo, per favore. Fai come ti chiedo, per favore. Sì.